Cattive notizie per le auto elettriche amate dall'ambiente ma troppo silenziose secondo l'Unione Europea. Il problema è rappresentato dall'assenza di rumore che rappresenta un potenziale pericolo per pedoni e ciclisti che non le sentono arrivare. Per questo i produttori avranno tempo 5 anni per dotare le loro vetture di sistemi di allarme acustico che con buona probabilità riprodurranno il rumore di un motore tradizionale. Paradossalmente la decisione dell'UE fa parte di un pacchetto legislativo che richiede anche alle automobili convenzionali e ai camion con motori diesel e benzina di ridurre il rumore emesso del 25% con l'obiettivo di ridurre l'inquinamento acustico complessivo causato dal traffico stradale. Grazie a tutti. Grazie.